Ci sono una serie di segnali che ci dicono che una nuova onda tecnologica sta iniziando. Premesso una cosa, premesso che qualunque innovazione tecnologica in un mondo capitalistico ha la funzione di ridurre la manodopera. Eh, se no non verrebbe adottata quella tecnica. Ridurre la manodopera, di conseguenza i costi, aumenta la produttività. Possono essere compensati dallo sviluppo di settori legati alla medicina, alla salute, alla prevenzione, alla gestione del corpo che vanno dal negozio di estetica alla medicina più sofisticata, all'uso delle staminali per intenderci. Cioè la manutenzione del corpo umano è molto, non è più, come la cura, non è più la cura dell'anziano, del bambino piccolo. È proprio un'attività di riproduzione sociale, nel senso più vago, quindi come si mangia, come si dorme, come si vive, i trasporti, la gestione del tempo libero, lo stress, le psicocriticità, tutte queste cose qui. È in big data dall'altro. Saranno in grado di compensare la perdita dei posti nel terziario? Io personalmente non lo so questo. Forse è troppo presto per rispondere. Ma sicuramente all'interno di questo schema un discorso di reddito è importante, è importante, ed a questo punto di vista potrebbe essere funzionale anche al sistema capitalista stesso. Non è un caso che determinate posizioni sul reddito vengono dalla Silicon Valley, che sono quelle che maggiormente sono gli autori che governano questi processi. Ed è chiaro che però il tipo di reddito che si vorrebbe dare è un reddito condizionato, selettivo, pensiamo all'esperimento di Oakland. L'esperimento di Oakland è molto interessante perché sono state selezionate 3.000 persone, sulla base di alcuni background di curricula, e questo è molto importante perché qui c'è la divisione cognitiva che proprio interviene, e a questi vengono dati 2.000 dollari al mese senza condizione. Quindi totalmente condizionato, puoi fare quello che vuoi. È finanziato da una fondazione di Musk piuttosto che di altri, capitale dell'industria, ed è un investimento in capitale umano. Non è filantropia questo, è un investimento in capitale umano. Perché basta che una persona su questi abbia, faccia un'innovazione potente, che questo investimento è ampiamente ripagato. Ma è un investimento sul capitale umano.